Anna Difusco, affermata artista di origini molisane, è stata ospite con le sue opere della Galleria 180 di Sernia, invitata da Gennaro Petrecca. Anna Difusco è un artista particolare prima di tutto perché prima di essere artista è una cara amica vulcanica, come tutti i molisani di origine, trasferita a Roma dove è stata apprezzata già da importanti critici d'arte, quindi per me è stato un piacere averla qua in questa duplice veste di artista e di amica. Sicuramente è una pittrice che dà luogo a una produzione originale, nel senso che conoscendo bene quelli che sono i principi dell'espressionismo astratto, dà luogo a delle forme di natura prevalentemente geometrica, ma che in sé rivelano una conoscenza approfondita delle geometrie, io le chiamo planetarie, perché ci sono dei richiami a delle stratificazioni, a dei lavori di spatola che sembrano sostanzialmente casuali, ma sono frutto di un certosino lavoro di ricerca e di studio. Ma qual è il messaggio che Anna Difusco con le sue opere vuole lanciare? Lo abbiamo chiesto all'artista stessa. Ritorno alle origini, sono andata via 40 anni fa da Isernia, anzi da Sesto Campano dove sono nata, 42 anni fa sono andata via a Roma per l'università e poi là sono rimasta a lavorare e negli anni ho coltivato questa passione. Cerco di tirare fuori quello che ho dentro, se poi la gente, il fruitore riesce a comprendere, mi fa piacere. Poi ognuno dà la sua versione, ognuno ha le sue emozioni, davanti a un'opera informale è più difficile sicuramente rispetto a un'opera figurativa. L'informale mi rispecchia di più, quindi non so cosa... parlo con le mie spatolate più che con le parole. E sulla portata artistica della mostra, aperta fino al 14 settembre, la parola alla curatrice Carmen D'Antonino. Innanzitutto Anna Di Fusco è un'artista poliedrica, un'artista ormai già affermata da tempo per le sue numerosissime mostre e chiude, tra virgolette, il cerchio proprio qui in Molise, in provincia di Isernia, nella nostra galleria Spazio 180. Presentando una moltitudine di opere di grande formato, opere che rappresentano la tecnica dello spatolato, questa tecnica così decisa, così concreta e anche molto astratta, perché riprende artisti importanti, ambasciatori dell'espressionismo tedesco come Artung e Kiefer. La particolarità di Anna Di Fusco è quella proprio di accostare la sovrapposizione delle diverse tonalità cromatiche di quella che è la gamma dei colori, facendo entrare in questo modo il visitatore all'interno dell'opera, quindi lavorando anche quella che è la superficie con una forte tridimensionalità e facendo uscire appunto quelli che sono i colori nelle loro bellezze, nelle loro brillantezza.